Arriva il postino, suona sempre due volte, guarda, guarda, Equitalia, Ferrarini Enzo, meraviglioso, le comunichiamo che ai sensi dell'articolo 29,1 lettera B del decreto legge del 31 maggio 2010 numero 78 convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 numero 122 e successive modificazioni e integrazioni in data 1610 2015 del dia dell'entrata e ci ha abitato per l'avvio dell'attività di discussione della somma richiesta con avviso di accertamento numero 8, notificato dalla stessa agenzia delle entrate, attenzione signori Equitalia, andiamo a vedere, guardate, guardate, si vede bene la cifra? 7209 euro da pagare, è veramente una cosa meravigliosa, volevo ringraziarvi veramente di cuore per avermi mandato questa ennesima lettera che finirà gestionata, ma è possibile che continuate a sprecare tanta carta? Ma basta sprecare la carta, la carta si fa tirando giù gli alberi, bisogna rispettare gli alberi, non bisogna rispettare i ladri.